Ciao a tutti, oggi prepareremo la sbriciolata di pandoro con nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 2 ore di riposo in frigo. Ingredienti sono pandoro, latte intero, zucchero semorato, farina di tipo 00, uova, aroma di vaniglia, caffè zuccherato e nutella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte intero, lo zucchero, le uova, l'aroma di vaniglia e la farina. Ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità a 4. La crema è pronta, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare. Abbiamo rivestito una teglia del diametro di 28 cm con carta da forno. Adesso andiamo a mettere il pandoro tagliato a fette e schiacciamo bene. bagnare la base e i bordi con il caffè zuccherato. Versiamo sulla base la crema. livelliamo. Mettiamo sopra la nutella. variegare con una forchetta. ricoprire la superficie con i pezzetti di pandoro sbriciolato. cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 5 minuti. la sbriciolata è cotta, lasciamola raffreddare del tutto e riponiamola in frigo per almeno due ore. sbriciolata di pandoro con nutella. grazie e alla prossima ricetta. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti.